Buonasera, buonasera, come state qui Pietro Zavonini alla vostra e un caloroso benvenuto in questa live, nuova, nuovi argomenti, nuove emozioni, buonasera Zagudman, buonasera, cheers a voi, buonasera, buonasera, salve i desta, hello, hello a Toriganza, buonasera, Allora, partiamo, parto col mostrarvi, prima di iniziare con le nuove cose, stasera signor Desta, vi mostro intanto quello che ho fatto nell'immediato futuro della scorsa live, ci eravamo lasciati, che avevamo fatto questo, ok? Avevamo fatto questo, poi alla fine avevamo fatto in silicone il boink, avevamo fatto con il silicone il calco, mi è venuto preciso, benissimo, e da questo ne ho ricavato sia, grazie, anche tu, Desta, ne ho ricavato sia, boh, una coppia così, giusto per avere un altro riferimento nel caso mi servisse questo materiale, sia questa roba qua che è in gesso, tipo 3, ma cosa più importante, cosa più importante, due modelli, sempre in gesso, per un'eventuale colata in metalli, che vedremo in futuro, ovviamente non riuscirò a farveli in diretta, perché bisogna preriscaldarli in forno, bisogna sciogliere, è un casino, quindi vedrete magari sui social gli effetti e vi mostrerò poi successivamente in live. Detto questo, stasera usiamo le tempere, signori, le tempere, allora, perché così? Perché mi mancavano gli acrilici, dei colori di acrilico, e allora ho deciso che andremo con le tempere, io domenica ho disegnato questo affare qua, ho detto, boh, dai, facciamola anche in live, e questa qua è la copia, più o meno, di questo affare qua, più o meno, eh, ci manca lo spondo, penso che col nero dietro lo renderà di più, ma, ora noi andremo a farcene uno nuovo, farcene uno nuovo, prendiamo le nostre tempere con calma, e via, e si parte, sono fatto solo una base, uno schizzetto sotto, e via, e via, e vi dirò, state attenti perché questo fine settimana sono stato ispirato da Mindhunter, l'avete vista? Una bellissima serie, andatevela a vedere, sia esteticamente che di contenuto. Intanto vi mostro la mia tavolozza, stupenda, che non pulisco da anni, ma è quella, quando non capisci niente, anche, anche dalla parte sotto, non capire niente quando si mischiano i colori, è, è, è quel brividino in più, che, 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 che fassi, non lo so, quel brividino, quel, bevo, bevo. Cosa avete fatto questo fine settimana? Festa? Desta Junior, ti dirò, io sono rimasto colpito, complimenti, un'altra, per la scorsa, scorso sabato, complimenti, bellissimi, siete bellissimi, piacevolmente sorpreso, no, sorpreso, e, mi ha fatto piacere, e, cosa avete fatto questo fine settimana? Merde! Merde! Ciao, Rossa Nicolini, buonasera! Io, questo fine settimana? Centro, birrette, e basta. Classico. Cosa vuoi dire? Sì, domenica ho disegnato un po', domenica ho disegnato un po', e basta. Poi quelle robe di, dei calchi, delle cose, le ho fatte venerdì, la mattina dopo. Buonasera, buonasera, Adriana! Tutto bene? Allora, le tempere, cosa sono le tempere, se non... i primi colori che impariamo ad usare col pennello, da bambini. Ma, buonasera, blu mamba, buonasera, buonasera, tutto bene? In trasloco? Appunto, il primo approccio, intanto, ditemi anche se vi si sente bene, buonasera, Marica, buonasera, siamo in tantissime stasera, se mi si sente bene, se si vede bene tutto. Il primo approccio, allo spennelamento. Benissimo, grazie Adriana. Le tempere, ora, non mi ricordo, non mi ricordo quando avevo fatto scienza dei materiali, come, come la faccenda, però, a base d'acqua, reversibili, nel senso che, una volta che ci metti sopra le cose, se rinumidisci, non è come l'acrilico, che una volta, asciugato, non lo ridupo più. Ma lo saprete meglio di me, all'elementari, quante pariti avete? RobyRev, buonasera, buonasera, grazie, altrettanto, altrettanto a voi. Saprete meglio di me, come si adoperano. Io, mi piacerebbe farvi una domanda, anche se, non lo so, però, il colore, base di questa cosa qua, come lo facciamo? Cioè, perché mi sembra un po' brutto fare sempre grigio, robe così, non lo so, vediamo, intanto, iniziamo, ok? Va sempre bene iniziare. Facciamoci una base. Vi faccio vedere, mi riesco a farvi vedere anche, i colori che faccio. Mi sono concesso, l'utilizzo del nero e del bianco, perché, rosso. Sai che, ho visto su Instagram, sto seguendo su Instagram, un artista, molto bravo, che fa tutte le cose, cioè, fa oli, abbastanza realistici, tutte figure umane, tutto il rosso, sulle sfumature del rosso, e mi piace da matti. quindi, te l'appoggio, adesta, te l'appoggio sul Goodman. Arancione no, l'arancione è il colore, penso, non lo so, se non, se non nel tramonto, dove è bello l'arancione? da nessuna parte. L'arancione non va bene. Allora, però, se noi lo schieriamo con, se noi lo schieriamo col bianco, ci viene rosa. A me piacerebbe, iscurirlo, lasciare i punti di luce più, più luminosi, rossi, rossi carminio, così, e, iscurire con, questo violetto qua, non si vede molto bene, ma è abbastanza violaccio questo. Vedremo. Andando poi avanti, dai, è de rosso. Gli diamo, gli diamo. Si parte allora, ragazzi. Auguratemi, buona fortuna. Allora, io, ho preso di riferimento, questa, questa immagine qua, dovremo andare a fare una cosa del genere, poi ce l'ho anche più in grande, da un'altra parte, sono delle copie, che ho fatto a matita, di, un, a me piace fare così, non, 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 non datemi del matto, ma, copiare, le sculture che faccio io, perché magari esce fuori qualcosa di interessante, quindi, noi, noi si parte, senza paura. e poi, vi dicevo, ci passiamo sopra, senza problemi, possiamo ricorreggere, rinumidire, rifare tutto quello che ci pare, quindi, non dobbiamo avere paura stasera, come nella vita, mai, never scared of anything, ho scelto un pennello che è lungo come, la Salerno Reggio Calabria, e sbatterò contro il microfono, se non lo sposto, ditemi se mi sentite bene così, così, un incidente, un tamponamento, tra un mezzo pesante, sul pennello di Pietro, io, stavolta, e, così, cosa volevo dirvi, non mi ricordo, vi dicevo, Mindhangers, madonna, che figata, che figata, quella serie, molto, molto soddisfatto, avevo già visto la prima, ho, ho iniziato a vedere la seconda, questa domenica, ho guardato quattro, quattro puntate, bello, se la prima era bella, la seconda, si ripete, bello, chissà se, domani pomeriggio, non ho tempo libero, però, 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 per venerdì, riesco a, a mostrarvi qualcosa in, fatto la cagata, per sto microfono di merda, facciamo tutto, ragazzi, non vi preoccupate, sento la, la signorina, che ride dall'altra parte, hai visto, un buon motivo per un bello sfondo, lasciamo così, non facciamo, non, guarda che, mi sfotte pure, la signorina, è un buon motivo per un bello sfondo, un bello sfondo nero, sfondo come ci pare, allora, vi dicevo, copiare, la, la signorina, perché anche ricreare, tutte le, tutte le, tutte le cose, tutte le, le rovinature, delle, delle, della, superficiali, non lo so, sul bidimensionale rendono, così, esatto, imparare a sistemare le cagate, importantissimo, lo vedremo dopo, dai, vedremo, vedremo, ce la faremo, spero, basta uno sfondo, poi vi ho appena detto, scusate, cialtrone, a parte che, questa carta, avete visto che cartina, super pro che vi ho portato, stasera, mh, assorbe tanto, quindi dovremo coprirlo, è reversibile, quando c'è un, substrato, abbastanza spesso, di, di, di materiale, pittorico, sopra, di impasto, mh, d'esta, hai visto il nuovo video, di, mh, sailing yacht, talio, la mossa, hai visto, mannaggia, è già partita, ci facciamo le parti più scure, per non coprirci la matita, per ritrovarci dopo con, e poi andiamo a sistemare, pian piano, chissà, vero, pensate, qui dovremmo, risistemarsi, non, vi consiglio, il canale, talio, mi pare, si chiama, su youtube, è questo ragazzo, che, boatbuilder, and sailor, che, che fa le barche, che, sistema una barca, supportatelo, molto bravo, supportate anche Pietro Zamorini, supportatelo, fate, non lo so, quello che volete, Bira, sto, sto un attimo guardando, dalla, dalla reference, un po', le zone più scure, per darmi, dei punti di riferimento, qua, 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 una cosa, volevo dirvi, ho comprato, questo fine settimana, sempre, oltre a disegnare, ho giocato, il gioco, quello che, avevamo presentato, la presentazione invidia, dell'RTX, mi pare, dei Lego, che è un, su un nostro, carinissimo, 16 euro, ben spesi, una grafica, molto carina, con una, d'esta life, se, con la 3070, te lo prendi, godi come un riccio, con l'RTX, manetta, proprio, proprio, proprio bello, poi si, è un giochino, sto due ore, neanche, neanche, si chiama, poi vi dico il nome, non mi ricordo, Brick, è della Lego originale, molto carina, molto carina, molto carina, guarda come, quante facce, che mette, di sta, di sta Junior, troppo forte, allora, scusate, come reference, allora, questa, faccia qua, che avevo, purtroppo, mi pare, di averla venduta, oppure, ce l'ho, in un posto, che non ricordo, quindi, mi sono rimaste, solo queste, e quindi, non abbiamo, una reference, tridimensionale, ma, saremo, bene in grado, di, ricordarci, come va, cina, queste, erano entrambe, copie, molte, non ve l'ho fatta vedere, questa, copie, di, una vaccetta, tipo, questa, e come sarà, molto probabilmente, quello che risulterà, probabilmente, da quei calchi, che mi ho fatto vedere prima, si spera, spera, non usavo le tempere, da una vita, prima di domenica, bello, mi piace, poi, l'effetto finale, un po' opacco in superficie, non è proprio il massimo, però, sono tempere, ragazzi, a me, a me diverte, comunque, quindi, grazie, destra, grazie mille, poi, ce n'abbiamo di roba da fare, ancora, eh, perché poi, appunto, anche dopo, tipo, oggi pomeriggio, ho ritoccato quella che vi ho fatto vedere prima, sono solo andato con dell'acqua, a rinumidire, e, rimpastare la superficie, semplicemente, quindi, sì, per me, molto permissiva la tempela, ecco, se per caso vi stupate, nella faccenda, tornate lì, ecco, poi può essere messa giù come molto materica, può essere messa giù, anche se non ha più di tanto senso, magari, rispetto a un'olio, però, vediamo, io tendo ad essere, a non, non, non andare molto in tridimensione, con, con, poi dipende, però, di non, di non essere molto spesso come, come impasto pittorico, ok, ci siamo detti, il rosso, questo qua, saranno i punti di luce più, luccicosi, quindi, andiamo a vederci per bene, non è che, magari, dovrei mettervi a schermo anche, così capite, eh, ma, dovrei allargare troppo, magari poi non si capisce quello che faccio, vediamo, contorsionismo, ma si dai un po' di, un po' di, macro, cioè un po' di, esaggismo, secolo, sono andato a vedermi, mi dirò la verità, sono andato a vedermi qualche playlist di musica gratuita in questo fine settimana e anche prima penso metterò sottofondo musicale nelle prossime live vediamo si sa mai magari il nero non dovremmo usarlo però il nero è da deboli sapete troppo facile scurire con il nero vero no 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 pensavo classica ci sono tante è che ci sono tante playlist con interpretazioni pensavo classica no con interpretazioni di motivi free copyright non so vi farò degli esempi però giusto sottofondo è perché non so neanche se riesco a lavorare bene con quella roba vediamo vediamo un po di odarin il giallo potrebbe venirci in aiuto aspetta vediamo come no no direi di no si vede un po si immarronisce al culo buonasera kavam bomb buonasera stiamo pittando si pitta stasera facciamoci un po di questo colore per scurire scenda mi avvicino mi avvicino anche lui così vedete bene e via si riparte merda come notate come non è che è arrivato da poco ho sporcato il foglio ma non è un problema qua siamo abituati a bene la vita ci ha preparato a ben altre sfide molto più gravi di questa quindi fonte sega come dicono i giovani fonte sega noi faremo un punto luce quando non lo farei così poi ci schiariamo segniamo se funziona con il rosso e quindi puoi usare tutti i colori che vuoi per fare tutto quello che vuoi pensate scusate magari non lo sentite ma io sbatacchio col pennello sull'asta del microfono dovrò prendere una dovrò prendere una col morsetto e appendermela oppure lo farò me lo appendo sulla libreria lì così non magari mi ingombra di me non vedrò dovrò sistemarmi meglio pensavo per l'upgrade del microfono di prendere senza starmi a prendere una scheda audio tipo una red scarlet così così non so se vi intendete della faccina ma di prendere l'elgato xlr sti catti che deve ancora uscire probabilmente però è un'interfaccia che ti permette di collegare un microfono xlr e c'è una interfaccina e una stupidaggine c'è di hardware e una stupidaggine usb entra al computer e tu ci connetti ci connetti il microfono xlr quindi una roba qualitativamente migliore fino a 72 db una roba del genere e poi rimane da comprare il microfono e lì cosa si prende? non lo so non lo so proprio ragazzi sapete di microfoni buoni, belli per queste faccende qua? niente di milionario ovviamente però sapete di microfoni voi? senza spendere 1.100 euro per un non lo so dovrò informarmi ragazzi dovrò informarmi vedremo o sennò come i veri metto la la striscia delle donazioni microfono nuovo il goal delle donazioni e me lo faccio comprare da voi poveri bastardi no sia mai dio non dico niente continuo a sbattere sto pennello è davvero lungo come il nero di whatsapp l'avete presente? vedete come è fatto il nero di whatsapp ecco questo pennello è non dico sto zitto che è meglio vero? eeeh poi è bello vedere uscire fuori da da delle macchie dei volumi delle cose è vero? è sempre così affascinante mi sorprendo mi sorprendo anche ogni tanto mi sorprendo delle cose che escono non per perché sia bravo io ma per per la non lo so è bello no? da un foglio e due macchiette vero? bello mi riesce ovviamente la tempera va lavorata a un'umidità giusta l'idratazione della tempera va dosata con cura perché se no se si asciutta strappa come vedete vi faccio un esempio non deve mai strappare come come in questo caso qua capito? quello è brutto molto forte qua si vede il mouse meglio tornino via non facciamo pubblicità alla Razer che ha già è chiaroscuro è fondamentale esattamente capire dove in questo caso che stiamo lavorando in croma ma tra virgolette perché stiamo è quasi un non è cromatico come si dice una sfumatura volumetrica monocromatica quindi è abbastanza semplice non stiamo copiando davvero niente però il chiaroscuro si alla fine capire la luce è importante poi queste sono copie a matita di un oggetto metallico quindi rifletteva faceva cose strane quindi vai a sapere però anche questo ripassare sopra le cose fegatoros 89 buonasera buonasera benvenuto grazie del del follow fegatoros l'ho letto bene buonasera benvenuto non guardi questo sbavamento oh dario buonasera bastava dire bastava dire dario zan come stai bellezza tutto bene da quanto tempo vedo su 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 facebook su tutte cose cosa fai sei bravo picchi duro tanto tempo che neanche ti vedo dal vivo non so se tu l'hai visto di recente dario io non lo vedo da anni penso annoni grazie grazie dario mi fa piacere che che tu sia in produzione e che tu continui a picchiare sulle tue cose hai un'idea ben precisa mi fa piacere che continui così mi piacciono i tuoi lavori mi piace tutto vai finché tu continui a picchiare finché non non sfondi qualcuno il destra dici l'hai visto un anno e mezzo fa bevo e invece noi non ci vediamo da un sacco di tempo in più te lo dico se vuoi recuperarti giusto per vedere cosa abbiamo fatto le scorse live sul Linktree su Instagram c'è il canale YouTube ma anche su YouTube se cerchi Pietro Zamorini ci carico le live più o meno il giorno dopo che l'ho fatta qua su Twitch le carico lì se vuoi recuperare qualcosa e poi niente che bello mi fa piacere che tu sia qua a Dariuccio ti penso cioè ogni volta che mi capita una una foto di un tuo lavoro cose penso e mi chiedo sempre che cazzo starà facendo in questo momento e così e così grazie tu dovremmo dovremmo vederci sarà meglio organizzare qualcosa vero Desta e Dario dobbiamo organizzare organizing PR qualcuno deve fare il PR per un'uscita scusate scusate se non se non lo conoscete Dario andatelo a seguire Dario Nerio Facebook su Insta tutte cose è un ragazzo la pace di Stasane Zambossan dobbiamo dobbiamo trovarsi ragione per Stasera Dario stiamo facendo quelle tempere ho detto mi mancava un colore con l'acrilico con l'acrilico facciamo le tempere belle che ci si diverte vero Desta sei stato una manna dal cielo con questo consiglio perché se lo facevo come l'altro cioè il è sempre è sempre posticcio i punti luce col bianco o con cioè quando metti bianco e nero assieme anche se il colore base è un altro ti viene sempre una schifezza cioè posticcio nel senso che vedi sempre ti viene sempre fuori un grigiastro alla fine capito e allora mi hai dato un buon consiglio ad usare il red ne facciamo del nostro meglio per per far uscire una roba decente poi magari in futuro facciamo olio facciamo robe così vediamo anche se l'olio ha bisogno di tempi in produzione è infinito ma poi per l'asciugarella dovrò chiedere a chi è più esperto di me dovrò informarmi meglio perché l'olio non l'ho mai preso in grandissima considerazione magari mi studio qualche tecnica e ve la porto anche approfondimento magari può essere interessante anche per voi perché appunto l'olio io non me lo sono mai cagato più di tanto se no in periodo scolastico appunto ma niente di più che spettacolo che spettacolo ci sarai tu Blu Mamba tu e i tuoi bambini facciamo un contornino facciamo andare più in giù così cos'è questa tempera la tempera non è altro allora in antichità per esempio una zanzara la tempera è un miscuglio di pigmento in un tempo passato era il tuorlo d'uovo nel tuorlo del bianco vero? albume albume d'uovo quindi è un colore a base d'acqua quindi pigmento è un collante a base d'acqua e acqua semplicemente è una delle tecniche più antiche alla fine perché se ci pensate tutte le cose ci sono un sacco ovviamente si sono conservate malissimo perché essendo la faccenda idro idrosolubile la conservazione è quel che è il tema in umidità in migliaia di anni però capite a me è la cosa più semplice che puoi fare prendi della farina rossa un albume d'uovo e ti sei fatto la tempra hai capito? quindi è un impasto tra pigmento e cose così niente di più metti a fuoco per cortesia grazie ehm cocco se dimmi devo mettermi un po' di ho pitturato il microfono è da cambiare è da cambiare l'avevo detto io e mi prendo un po' di rosso nuovo perché lo lascio pulito perché quell'altro l'ho insozzato con altri colori un po' di pigrizia nel pulire il pennello madonna st eh mi sono anche macchiato la maglia adesso st non ti preoccupare alexa e tempera va via tutto e cosa volevo dire che disa che sbadataggine questa sera l'emozione cosa volevo dire non mi ricordo cosa stavo dicendo puliamo sto pennello finalmente sì ragazzi cosa mi raccontate di bello ragazzi datemi un questo fine settimana siete andati in giro avete fatto festa l'avete fatto festa una cosa ditemi se l'avete visto main hunter e se non l'avete visto andate a vedervelo perché è molto carino molto molto carino davvero veri veri bello tratta di i primi apporrocci dell'fbi verso i serial killer un'analisi del comportamentale di questi soggetti super bacati visto che non vogliamo chiaro chiaro lo facciamo materico così zoom una una frigola e ve lo metto così la triganza sì top 3 addirittura addirittura top 3 e gli altri due nomi della tua top 3 i vostri 3 top 3 è per te i vostri Gesù dammi la forza le vostre top 3 di serie io ci penso e ve lo dico subito ci penso e ve lo dico subito true detective il primo allora la triganza mi ha risposto game of thrones true detective bonus peaky blinders oltre a la quella sopra citata capisco tu metti game of thrones dopo l'ultima stagione non ti hanno fatto così arrabbiare da da meritarsi una una repulsione dalla tua top non ci sarebbe niente di male io vi dirò la prima di true detective la prima di true detective non si cancellano sette stagioni d'amore c'hai ragione anche te ho finito il succo tra poco vado a prenderlo oddio signore quando ho sentito una bestemmia una bestemmia è perché sbatto il pennello sul sull'asta del microfono sull'asta del microfono che bello Dario pensa a te pensa a te Dariozzo qualcuno mi ha letto nel pensiero Better Call Saul Lost e The Bulldogs The Bulldogs non l'ho mai vista non l'ho mai neanche sentita che l'è che l'è Better Call Saul non l'ho vista Lost l'ho visto non l'ho visto fino alla fine sono arrivato Desta mi dispiace non l'ho Better Call Saul mi ha ispirato a morire e prima o poi me lo magno però però cazzo The Bulldogs una una stagione sola Bulldogs e l'hai scoperto ultimamente io mi fido eh di signore distanzi fidati tutti the good doctor con cosa non cosa cosa ho letto doctor conta cosa vuol dire the good doctor qual è cos'è 2014 ok vediamo il moderatore cosa mi dice scusate comunicazioni di servizio con i moderatori beh ragazzi sta uscendo fuori una roba meglio meglio di niente direi no meglio di niente 2014 chissà si trova in qualche tipo Netflix roba così Amazon avete visto hanno annunciato la nuova puntata di 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 porca miseria di grand tour cioè non la stagione una puntata nuova e una una roba che vi consiglio spassionatamente proprio è quello di Jeremy Clarkson the farm quello su su prime video al bacio proprio quella serie meraviglio dovunque ci sia Jeremy Clarkson cioè ci sono un sacco di risate c'è un sacco di bellezza avviso il moderatore che può fare tutto quello che vuole non si preoccupi il moderatore ci siamo capiti ma siamo un po' scarsi andiamo avete paura di dirmi le vostre serie preferite dopo che vi ho bastonati sul sul sulle sull'arte nella scorsa sera avete paura no non vi dirò niente perché anche di serie io guardo abbastanza poco abbastanza non so non mi ritengo un esperto di chissà che poi anche di cinema cioè guardo i film mi piacciono quelli belli mi fanno cagare quelli brutti un po' come tutti forse Rosa parla con il signor soul goodman dei bulldog di the bulldog vero sistemiamo rifacciamoci un altro po' di colore per inscurire il brutto della tempera è ovviamente che in lasciandola lì tanto si secca fa la crosta e quindi e poi riunumidirla con l'acqua non è non è la stessa cosa poi non ha la stessa consistenza di applicazione fredda dovresti usarla in un breve periodo oppure raccattarti ed è fatto il colore più o meno più scuro ma potesse potesse sega super fighissima e underrated anche dem dem bella dem bella 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 famiglia di colore la prima che si trasferisce in un quartiere bianco non so se avete presente mi pare sia su netflix vero mi pare sì molto interessante molto carina molto carina una direzione cioè una regia cioè non me l'aspettavo ecco prime video scusate su prime video molto carina molto carina quindi non vorrete che mi che muoia di sete quindi dovete aspettare che verso la birritta dicevo quella di Jeremy Clarkson sulla pastorizia incredibile proprio bella che altro avete presente quando non so voi avrete visto tutti non so Breaking Bad e non so quella degli zombie come si chiama la voglia di rivedere di rimettersi a vedere una cosa che avete visto magari alle superiori o Breaking Bad io non mi ricordo quasi niente mi piacerebbe rivederla ma so già che rimettermi a vederla sarebbe deleterio perché mi forzerei a farlo perché a parte la lunghezza infinita cincina tutti intanto ma poi non sia più il tempo di una volta non so se mi capite però a parte la sera ecco preferisco disegnare con voi che guardarmi una serie che lecca da culo ma vabbè datemi la vostra top 3 non vi vergognate io non vi giudicherò se no vi chiedo il cin 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 top 3 serie sbappuntot e arrivo blu mamma fatti avanti avanti non aver paura c'eravate qua dall'inizio avete visto che poi quando ricaricarò il video quando me lo ripeterò però ho fatto un'entrata di scena un attore sto diventando signori poco da fare via 2016 ok e dove si trova cioè dove posso andare a vederla me la passi tu o posso andarla a vedere posso andarla a vedere posso andarla a vedere su una piattaforma di streaming popolare ovviamente la passa passami su questo non mi lasciare la disc se no rimane qua una vita come la scorsa volta metti a fuoco per cortesia grazie a fuoco lento vero allora ci siamo più o meno abbozzati i volumi no ora per parlare di cose più inerenti all'ambito della faccenda e adesso arriva se avessimo un oggetto alvelo da copiare sarebbe diverso però adesso dovremmo cercare di fare il meglio che possiamo per rendere i volumi per rendere i volumi per finire tutto riempiamo qua non ci preoccupiamo cosa dite metto un po' di classica metterò in futuro vi disturberebbe sentire della musica classica di cui io non mi prendo la responsabilità metterò una playlist magari di musica classica senza copyright mi va ovviamente dentro quelle playlist non c'è solo classica c'è anche ci sono anche rienterpretazioni di cioè è diventato da pazzi trovare delle playlist fatte con cognizione di causa non lo so ho perso ogni speranza ho perso ogni speranza continuiamo per la nostra strada che ce ne frega noi noi ci facciamo compagnia da soli scusate dovevo dare un'occhiata più da vicino domenica pomeriggio ho visto anche spero che nessuno di voi sia carabiniere o una forza dell'ordine però ho visto un documentario sul g8 di genova ogni volta che vedi qualcosa sui generis ti viene la rabbia cioè ti viene l'acab nella testa e dura lasciarla cazzo the office che rincoglionito che non so voi ma se siete del mio stesso parere ma rischia di superare scrubs vero o sbaglio comunque ho visto sto documentario sul g8 ogni volta che vedo qualcosa sul g8 mi viene la rabbia verso il verso le forze dell'ordine mi dispiace se mi sta ascoltando qualche carabiniere o c'è poco da fare provate voi a guardare un documentario sul g8 e non incazzarvi con il vero è su amazon prime ed è bello fatto bene ovviamente parli del g8 parli sempre delle solite cose in questo caso però faceva anche dei confronti magari con altre manifestazioni del genere e rapportava il comportamento della polizia e dei vertici ovviamente del governo rispetto appunto all'approcciare a manifestazioni un'opprimenza che è nata in quel periodo dalle forze di polizia e chi per loro perché poi anche loro fanno quello che gli viene detto la maggior parte del tipo poi spesso non entriamo stiamo zitti potremmo offendere qualcuno però un rapporto tra varie manifestazioni e vari comportamenti che si assomigliano a tutti molto molto interessante molto interessante scusate moderatori moderatori scusate e così vi faccio rivedere intanto più o meno quello da cui stiamo partendo più o meno poi c'è anche quell'altro qua sopra e quello da quale stiamo stiamo copiando tra virgolette non si copia mai alla fine un po' di copiare il termine copiare non è mai non è mai giusto se non si parla di una fotocopiatrice e non bisogna aver paura di dire copio un artista che mi piace perché appunto per la questione che non non si copia mai se non cioè se non lo fai con scopi di lucro non si copia mai si prende ispirazione si non lo so anche quando prendevo spunto a piene mani da si rinterpreta sempre no? non è mai una cosa non è mai un lucrare ecco è un prendere spunto beh non potete parlare quindi io ho sempre ragione in questi casi vero? no potete dirmi se dico delle grandi stupidaggini o se non siete d'accordo con le mie parole anzi ben contento di discutere o chissà che chissà che cosa però se sei una persona ragionevole non copi mai prendi sempre spunto vero? che peccato non avere ancora questa faccetta ciao Piero mi ero già pensato che era frankpdp90 ho letto un hashtag ciao Piero io ho pensato subito a lui un saluto anche se non c'è un vas a frankpdp detto non lo so detto non lo so vediamo spostiamo un attimo l'attenzione guardate eh volevo ritirare fuori quel altro vedete il bianco del grigio è sempre non lo so è più intenso no? e poi scusate copiare va bene? noi viviamo no? e osserviamo le cose se facciamo cose che per le quali è inerente l'osservazione siamo costantemente bombardati di stimoli visivi per cui prima o poi qualcosa si copia che voi lo vogliate o no che voi ne diciate o no prima o poi qualcosa non si copia ma l'influenza è l'influenza è un dato di fatto o sbaglio l'influenza arriva e anche inconsapevolmente messaggi di culo non so se non so vedremo vedremo quando ci sarà un po' più di tranquillità il microfono vediamo vedremo per adesso mi sentite quindi direi che può stare così spero abbastanza spero abbastanza bene magari sui punti non so se si vede sui punti un po' più eh non si noterà mai nella vita sto lasciando un po' di materie in più ma non è tutta un'altra cosa da qua che roba strano vediamo questo pennello schifo grazie che bellezza come vola il tempo quando ci si diverte siamo già da un'ora e dieci siamo già da un'ora e dieci abbiamo combinato qualcosa almeno abbiamo combinato qualcosa pensavo di fare anche una cosa di iscord vedrò di organizzare anche quella fare un canale di iscord per informarvi delle grazie d'esta grazie d'esta moderatore di fiducia anche lui cosa vuol dire? non mi ricordo non mi ricordo anche quello che stavo dicendo meglio così sarà stato di sicuro qualcosa di poco importante si capisce un po' poco sapete dalla ripresa cioè se vedo se vedo la ripresa cioè se vedo lo schermo della live vedo un po' diverso no non siamo qui per non siamo qui per non lo so non c'è la miseria non c'ho la testa rincoglionita dovevo inscurire lì dovevo inscurire lì anche così ci si dimentica si fa si in questo caso si può fare è tempera meglio di così vediamo un senso a questa cosa qua vedete rovinato era un calco di colata che si era spaccato dopo le varie colate per lo shock termico molto probabilmente e appunto la mediana era fatta apposta ma queste crepe non non erano assolutamente brutte però anche questo è il bello del passare sopra le cose vero? allora adesso ci facciamo un bel colore scuro scuro pure usiamo questo e ci facciamo le ombre più ombrose le ombre i punti più i punti più scuri metto un microfono no che ci sbatto madonna cara ci segniamo appunto le rilevanze delle ombre più tenaci oscuro così un ricco e si va sempre più a sentimento è questi passaggi non finali ma quasi un po' di sentimento ci vuole un po' concentrato adesso scusate voglio finire per bene questa faccenda magari un quadrato nero in giro in giro per rilevare sta roba qua non la stavo neanche più guardando vediamo vi aggiornerò su instagram ins come ho sistemato una faccenda a parte che anche nell'altra volevo volevo fare lo sfondo nero c'è su bambino ora io dico come fa un cristiano nato in friulia non bestemmiare dopo tutte queste ingiustizie dovuto un pennello troppo lungo molto 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 molti sensi stiamo stiamo zitti meglio di un calcio meglio di un calcio nei coglioni meno faremo lo stesso poi con la nuova cosa vi dico noi ci vediamo poi mercoledì magari 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 per quel giorno per no per venerti riusciremo ad avere una colata di sulle cose nuove anche se un po' di paura perché forse dovrò separare in due nella mediana il calco perché mi sa di sempre se non faccio non rompo il calco dopo la la fusione vediamo 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 vedremo un errore gravissimo sarebbe aggiungere del bianco per per schiarire le cose noi al massimo il massimo che possiamo fare è fare un una cosa così un rosso un po' un po' schiarito con del giallo vediamo un po' vediamo per fare un po' di di luce no? oppure no oppure facciamo proprio dei punti bianchi però dobbiamo farlo lo facciamo con il pennello nuovo così non si sporca non diventa rosa di merda esatto stavate pensando lo stesso anche voi vero? giusto per un po' di enfasi sui punti più prominenti qualche punto dovrebbe bastare non ho dato l'effetto sperato magari bisogna un po' insistere eh? già un'altra roba quattro punti bianchi è già scusate eh potrei anche entrare no? vorrei essere sicuro di fare la cosa giusta mossi scusate il succo e come vi dice madonna bastardo come dicevo adesso visto che potremmo erroneamente cadere nell'errore di andare a passare sopra col pennello di rosso sul bianco dobbiamo stare ben attenti a non farlo assolutamente perché ci verrebbe un colore che non centrerebbe con il il resto del del disegno perché se noi passiamo sul bianco viene fuori un rosa totalmente diverso da quello che può essere questo violetto qua eccetera eccetera eh sì il bianco lo è luce se si parla di luce se si parla di luce si è l'unione di dei tre primari di è meglio poi finché non sia soddisfatti si continua a spennellare e non si picchia continuamente sull'asta del microfono dico così dai dai mi piace a voi? come vi sembra? poi vi posto una foto magari domani sera il socio è ben fatta su queste cose qua ma meglio di niente dai grazie 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 da lontano sembra che abbia gli occhi storti ma può starci può starci e anche quasi per stasera facciamo un altro due chiacchierine eccoci eccoci flexiamo le cose che abbiamo fatto uh brava bene 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 benissimo molto bene sto pensando sto osservando le cose sto vedendo sto osservando un po' ma si ma si allora mercoledì cosa facciamo ragazzi mercoledì domani non ci vediamo mercoledì alle nove e mezza cosa facciamo? ho usato le my mary sono commercialmente abbastanza buone cioè non sono le giotto non sono le robe più costose che più come però le paghi quei tre euro a tubetto mi pare sono tempere tempere extra fini buone 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 perché poi alla fine il difetto della tempera è è il fare quella patina bianca quando asciugano che noti tanto nelle giotto o in quelle cose lì queste un po' riducono questa faccenda non sono lucide ma non devono essere sono tempere e sì di qualità medio medio alta my mary my mary poi fa tante cose carine cosa facciamo mercoledì 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 vediamo domani domani pomeriggio tutto il giorno sono indaffarato la sera mi organizzo e mercoledì vi faccio sapere vi faccio sapere per bene voi restate in touch con le faccende vi farò sapere io comunque mente signori come al solito è stato un piacere fare affari con voi ricordatevi il cuoricino se non avete fatto ancora quello viola di twitch anche su youtube se volete andare a vedere se vi siete persi qualcosa se volete andare a vedere qualcosa ricarico tutto che dire signori spero che sia stato di vostro di vostro gradimento questo 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 intrattenimento serale sailor juicy sei tu bellissima ti avevo visto ciao sailor juicy sempre più cariche di prima grazie blumamba grazie mille chissà che tecniche useremo che soggetti andremo ad affrontare io non lo so voi neanche ci faremo un'idea io come al solito vi auguro una buona serata vi do appuntamento mercoledì e domani su youtube vi caricherò questa live e mercoledì ci vediamo in live e sui social di per scoprire un po' cosa faremo nella serata di mercoledì buonanotte la chat non mi si aggiorna vedo quella della buonanotte a tutti ragazzi è stato un piacere come sempre un bacio grande a tutti grazie di essere passati delle parole dei consigli adios a tutti quanti un bacio ciao 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 ciao